Presto, interroghiamo le stelle! La tua vita da single volge al termine! La mia vita da cosa? Da zitella! Perché mai vuoi entrare a far parte di una squadra di hockey? Non mi ha detto una parola. Aspetta, le stelle non si sbagliano. Agatha, ti piace? No! Senti Sara, se ci iscriviamo a questo torneo possiamo riconquistare la medaglia che abbiamo perso. A Mosca? A Mosca! Siamo a Mosca! Uraaa! Questo stadio è veramente enorme, Ivan! Tu vai e vinci. Promesso? Che cosa saresti disposto a fare per me? Per diventare il tuo fidanzato, intendi? E sia chiaro che andiamo a giocare a hockey, non a Batman e Robin! Capito uomini? Senti! 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 Senti!